la scuola è cultura conoscenza apertura la scuola amicizia amore e solidarietà la scuola ambizione obiettivi sogni la scuola è rispetto onestà giustizia e allora la scuola occupata secondo me sommessamente ha molto più senso se è la piattaforma dalla quale partite per reinvadere la città la scuola è ragionamento, critica, pensieri il sonno è ciò che i siciliani vogliono ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare sia pure per portare loro i più bei regali la scuola è una palestra di vita la scuola è una finestra sul mondo quando dopo la guerra si doveva decidere come impostare la Costituzione una questione fondamentale fu appunto quella del ruolo del lavoro dentro questa Costituzione del ruolo dei lavoratori dentro questa Costituzione infatti però si parlava di dire, si ipotizzava di scrivere che questa è la Repubblica dei lavoratori la scuola è la culla degli uomini liberi devo dire che quest'anno vedo che si inizia a centrare il punto della questione perché negli anni scorsi si discuteva quasi solo esclusivamente di questioni legate alla riforma della scuola ora diciamo ci si pone una prospettiva finalmente un po' più ampia che quella appunto dei problemi di una generazione, la vostra, che avrà delle difficoltà serie non privatizzatela non mortificatela non toglietele le risorse la riforma va fatta investendo, non tagliando ne vogliamo una squadra trasparente, democratica e libera dateci un motivo per restare in Italia abbiamo tanta voglia di futuro e ogni giorno ve lo chiederemo a gran voce ma arm矩zeigt ma armata ma armata ma armata ma armata Ma domani, domani, domani lo so Lo so che si passa e confine E di nuovo la vita sembra fatta per te E comincia domani Con affetto, gli studenti